ciao ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale cantare in libertà questo è ancora una volta lo spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte oggi vediamo un brano bellissimo dei news che è unintended bene ragazzi questa canzone si compone di sei accordi che sono mi maggiore quindi se questo è il do prima dei due tasti neri re mi maggiore si compone di queste note mi sol diesis si poi subito dopo c'è il la minore quindi se questo è do si la la do mi e la minore poi abbiamo il re maggiore re fa diesis la poi sol maggiore sol si re gli ultimi due accordi sono proprio do maggiore e si maggiore e fa così poi la strofa si ripete uguale e ritornello ha gli stessi accordi nella stessa sequenza e fa così poi la canzone si ripete con gli stessi accordi sempre con qualche variazione alla fine ma gli accordi restano sempre gli stessi bene anche questa era una canzone molto semplice da suonare io vi lascio in descrizione come sempre un link su dove trovare il testo con gli accordi la diteggiatura per entrambe le mani e tutto quello che serve per suonare al meglio questa canzone ciao 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 ciao